La nostra è un'attività ordinaria, nel senso che è incrementata il numero di clienti, quindi abbiamo installato più di 400 nuovi impianti presso attività commerciali o abitazioni private collegate con la nostra centrale operativa, a cui forniamo un servizio di pronto intervento con una guardia giurata nel caso in cui scatta l'allarme. Quindi sono 400 nuovi clienti in più che si aggiungono ai già oltre 2.000. Diciamo che la percentuale di furti non ha ancora raggiunto i livelli pre-Covid, dove c'è stato un azzeramento totale ovviamente. C'è stato qualche tentativo di intrusione, però sempre sventato dalle nostre guardie giurate. La tecnologia è molto importante, per cui installiamo impianti di allarme di ultima generazione con fotocamera a bordo sui sensori, per cui quando c'è un'intrusione si vede chi è entrato, per cui la centrale operativa riesce a rendersi conto se è un false allarme piuttosto che un allarme vero. E soprattutto con i tempi di reazione riusciamo a garantire un pronto intervento nel giro di meno di 15 minuti. Da due anni vi siete stesi anche a Rimini, tante operazioni, tanti servizi offerti anche in una provincia al di fuori delle Marche. Quest'anno in particolar modo siamo entrati in maniera abbastanza numericamente importante. Abbiamo messo 25 persone in più sulla sola provincia di Rimini, dove abbiamo messo 4 persone sui quad che fanno la vigilanza su tutte le spiagge, dal bagno 1 al bagno 150, quindi dal porto di Rimini fino a Miramare, ai confini con Riccione. 8 guardie sui Viale Ceccarini, Viale Dante a Riccione, di cui 4 in scooter e 4 a piedi. Oltre a vari servizi sulla spiaggia, dove ci sono i nostri operatori, ogni tot di spiagge c'è un nostro operatore che garantisce la sicurezza e che non venga asportato nulla o danneggiato niente nello stabilimento balneare. In più abbiamo una persona alla stazione di Rimini che controlla un antimbrattamento su un treno che va in Austria. In Romagna è abbastanza movimentata, nel senso che tutte le notti o risse o furti o tentate rapine, c'è parecchia gente, c'è la voglia di, dopo due anni di fermo, di uscire, divertirsi, trasgredire. In più, soprattutto Riccione, piuttosto che Rimini, è una meta di baby gang, cioè ragazzini che vengono per bere e fare danno. Per cui il nostro intervento, insieme ovviamente alle forze dell'ordine, cerca di contrastare questo fenomeno. e ogni notte, ogni due o tre giorni c'è qualche evento che riusciamo a sventare. Quindi, secondo me, ringraziamo i bagnini che ci hanno dato fiducia e il comune di Riccione e di Rimini. Però è un servizio necessario e abbiamo visto che ci dà anche molta soddisfazione.